Mamma mia, mamma mia, mamma mia cosa stanno combinando a Roma e non mi rivolgo alla Roma di Mourinho perché questo è un titolo che noi spesso utilizziamo e ne abusiamo. Qua dobbiamo parlare della Roma dei Friedkin perché sono i Friedkin che da quando sono venuti tassello dopo tassello stanno allestendo una grande squadra, vogliono una grande Roma e lo dimostrano con i fatti perché hanno preso un grande giocatore. E vengo subito ai detrattori perché sono quelli che, scusate il gioco di parole, si presentano subito e allora subito rispondiamo. Noi in Italia col background di Wijnaldum, di giocatori, ne abbiamo pochi, ma pochi pochi pochi. Un giocatore che ha vinto praticamente tutto con la maglia del Liverpool, un giocatore che è capitano dell'Olanda. Giocatore che nella sua carriera ha segnato oltre 100 gol e ha realizzato oltre 50 assist. Ragazzi, di giocatori così ne abbiamo pochi 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 pochi. E questo giocatore qua l'ha preso la Roma, Giorgino Wijnaldum e il giallorosso. Lo so, in questo momento gli scaramantici mi vorranno tirare sicuramente un calcio nel sedere. Hanno anche le loro ragioni, però arrivano conferme da tutte le parti. È solo questione di ore, forse minuti. Ma Wijnaldum vestirà la maglia giallorossa ragazzi miei, a meno che poi, ovviamente, le vie del signore sono astruse e complicate però. Se 2 più 2 fa 4, sarà 4. Ne parliamo. Prima, come al solito, vi voglio invitare a lasciare un like se questo acquisto, come me, voi ritenete che possa comunque portare qualcosa in più alla nostra sedia. Sicuramente sì. Vi invito anche ad iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. Fatelo perché in tanti mi sostenete. Vi ringrazio che si va verso i 180.000 ed è un numero che vogliamo raggiungere molto presto. Grazie ancora. E come al solito, per quelli invece che non vogliono stare dietro a troppe notizie o vedere le partite di amichevoli, però vogliono comunque sapere il risultato, Io vi consiglierò sempre OneFootball Leschio, ce la fai app che è gratuita, app che è personalizzabile, quindi neanche invasiva. Voi date gli input e vi arriveranno le notifiche giuste, a giusto tema appunto. Per cui, link in descrizione o QR code per scaricarla. Adesso, nella mattinata di oggi, anche Di Marzio, si è molto pronunciato, si parla di una trattativa ai dettagli nella serata e quindi tra un po' dovrebbe arrivare, non di certo l'ufficialità, ma proprio l'ultimo lascia passare. Noi ci portiamo avanti, perché ormai funziona così nel mondo del calciomercato. E' un fuggifuggio, uno scappa scappa, ma al di là di queste sottigliezze, si era già pronunciato il Corriere dello Sport. Da ogni parte, la si voglia guardare, la trattativa è incanalata. Nulla, ma veramente nulla, fa pensare che ci possa essere una retromarcia, un passo falso. No, il PSG si vuole liberare del giocatore, del giocatore che considera i sub. E sta roba, tra l'altro, al PSG non ho mai, francamente, mai capito come loro scegliere. Però, vabbè, c'è un progetto tecnico, loro sapranno i fatti loro, ognuno sa i fatti propri. E il giocatore, quando ha intravisto la possibilità della Roma, non pensa ad altro, è solo questione di dettagli. E su questi dettagli fa pressione anche José Mourinho, che lui è un comunicatore, lo sapete benissimo, ha postato questa roba qua, no? Putting pressure on the club's lawyer, come on, Daniele. Provo a tradurre, ci provo, perlomeno, mettendo pressione sull'avvocato del club. Andiamo, Daniele, andiamo. È fatta, ragazzi miei, è fatta. Lo dico, lo dico in maniera sorridente e felice, perché, ripeto, questo è un giocatore che, nonostante l'anagrafica, sì, a novembre compierà 32 anni, però io, oltre l'anagrafica, guardo lo stato fisico del giocatore. Il giocatore sta bene, questo è quello che conta. Andiamo a vedere gli ultimi 5 anni, questo qua non si è dato mai malato, si è sempre presentato in orario a scuola. Permettetemi di giocare, permettetemi questo gioco di parole. Un giocatore che in malattia non ci vuole andare, assolutamente no. Poi si è parlato di un diminutaggio poco elevato nella scorsa stagione. Ha fatto circa 40 presenze la scorsa stagione, Vainaldum, con la maglia del PSG. È un giocatore che comunque è presente, è un leader, è un giocatore intelligente, un giocatore dinamico, un giocatore che aggiunge, che porta con sé tanta, tanta esperienza, leadership, carisma. E nel cuore, nel cuore di una squadra, nel centro campo, il cervello di una squadra, un giocatore del genere serve, serviva la squadra di Mourinho e va a completare il pacchetto, secondo me, va a completare il pacchetto. Attenzione, non è un cagnaccio, quindi nella fase magari di non possesso, non è un giocatore di contenimento, ovviamente, fa e sa fare entrambe le due fasi, ma per quello c'è altro a Roma. Serviva veramente un ottimo collante. È un giocatore che a centro campo sapesse, come posso, trovarsi da sé la giusta collocazione. Mi ha impressionato guardando una partita di europei con l'Olanda, mi sembra che segnò una tripletta, doveva essere contro l'Estonia. Mi ha impressionato, perché al di là della vena realizzativa, ed è anche un giocatore che seppur l'anno scorso ha segnato forse solo un gol col Piagiri, ripeto, dove secondo me nella collocazione tattica non si è mai ritrovato a proprio agio, è un giocatore che ha l'inserimento senza palla, un giocatore che sa dove deve andare a occupare gli spazi e sa crearli. Quindi è un centrocampista interessantissimo, ha numeri dalla sua, seppur tanti gol realizzati magari in Olanda e diranno in tanti un campionato, però per un centrocampista, ripeto, ha un background importante, proprio dal punto di vista realizzativo, sia per quanto riguarda assist e gol, un giocatore, come ho già detto prima, un giocatore dinamico, un giocatore che porta con sé tanto, porta con sé una valigia piena, piena di caratteristica, piena di leadership, un giocatore di Murigno per Murigno, alla Murigno con Murigno, giocatore secondo me perfetto, giocatore perfetto nella Roma di Murigno, è incredibile perché nel 4-2-3-1 può giocare sia mediano, può giocare sia dietro la punta trequartista, ma non penso, ovviamente no, però potrebbe farlo, nel 3-4-2-1 ancora meglio, può fare sia, ripeto, lui nella fase centrale del campo può giocare ovunque, può giocare ovunque, quindi, giocatore come ho già detto, veramente, veramente molto molto interessante, è solo una questione di tempo, ma arriverà presto a Roma, sto anche sguicciando proprio per adesso, magari perché live possono buttare fuori nuove notizie e avere la conferma finale, però si può dire ragazzi, si può dire, buttiamo un calcio alla scaramanzia, ben aldo me della Roma, e questo è veramente un grande, un grande, un grande acquisto, lo so, da un punto di vista non è neanche piacevole esaltarsi così tanto, magari qualcuno dirà per un giocatore che comunque non è più giovane, però ad oggi giocatori del genere mancano al nostro campionato, ragazzi, e questa è la verità, giocatori con questo carisma, con questo background, mancano in Italia, e noi non possiamo minimizzare, già se arrivano almeno questi, quando arrivano, accogliamoli, e accogliamoli anche a braccia aperta, e lo farà di certo la folla, la plebe romana, incredibile, 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 va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, paneschio!